È stato ritrovato vivo dai carabinieri mentre vagava nel quartiere Parioli 77enne Nino Zazzara che si era smarito nel pomeriggio del 21 marzo allontanandosi dal pronto soccorso del policlinico Tor Vergata. Ad annunciarlo è stato il figlio Giuseppe con un post sul suo profilo Facebook condividendo una foto del padre sorridente e scrivendo Grazie ai carabinieri, a tutte le forze dell'ordine, alla redazione di chi l'ha visto e ai giornalisti di carta stampata, tv e radio, alla protezione civile con le unità cinofile al NUE 112 e al Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi.